Al via il corso di difesa personale per operatori di polizia di stato ed esercito, un'attività importante che si svolgerà fuori dall'orario di servizio che aumenterà la prestanza fisica, farà conoscere nuove tecniche di difesa e permetterà anche di costruire importanti sinergie. È un corso che verrà fatto fuori dall'orario di servizio, quindi i miei uomini e donne del reggimento sacrificheranno, permettetemi questo termine, il proprio tempo libero che è già limitato, il tempo dedicato alla famiglia normalmente nel weekend o comunque fuori dall'orario di servizio per incrementare la propria prestanza fisica, metterla innanzitutto al servizio della collettività, ma poi anche per crescere individualmente. Poi faccio ragionamento che forse vale più per gli operatori di polizia, anche per i miei in certo senso. Pensate, perché va sostenuto il valore della difesa, se un operatore si difende meglio e anche meno soggetto a infortuni, pensate un infortunio che possa accadere in servizio e quell'operatore manca poi per 45 giorni, 50, 60, a seconda della prognosi, è un operatore in meno che salvaguarda la sicurezza della città, quindi ha un valore estremamente alto. Un corso di difesa personale unico a livello nazionale organizzato dal SIULP di Pesaro Urbino, che ormai da dieci anni crea progetti per la sicurezza dei cittadini e trasmette valori di legalità e sicurezza. Abbiamo deciso, è molto importante secondo noi riuscire a creare una sinergia, un gruppo di lavoro in modo da formare i nostri operatori delle forze di polizia. Adesso partiamo con la polizia di Stato, ma chiaramente il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutte le forze di polizia, quindi arma di carabinieri, esercito, polizia locale, polizia penitenziaria. Quindi far lavorare insieme tutte queste forze di polizia, riuscire a farle formare e dargli quegli strumenti di lotta di difesa personale, in modo che se arrivano devono contrastare una persona. Noi vogliamo essere in grado di dargli quelle tecniche, quelle capacità operative di difesa personale, in modo che sia l'operatore sia in grado di mobilizzare la persona senza fare del male, o comunque limitando al massimo i rischi dell'incolumità personale della persona che deve fermare, e anche per tutelare al massimo i rischi per la propria incolumità personale. Ad insegnare le tecniche di difesa personale sarà il più ricampione del mondo di kickboxing, Jordan Valdinoci. Sono veramente onorato di poter fare da collante in questa iniziativa, tra le forze dell'ordine e della mia città, tra l'altro ho avuto il piacere, grazie a questa iniziativa, di conoscere il comandante. Devo dire che ci siamo subito trovati, gli intenti, nonostante veniamo da mondi completamente diversi, sono comuni. I valori dello sport si sposano molto bene con i fini anche della polizia e dell'esercito, quindi puntiamo tutti verso un obiettivo. E quindi, come dicevo, sono veramente onorato di essere parte di una cosa così grande e così importante nella mia città. Quindi, veramente contento per tutto ciò.